L'otalesco Pineto al Savini è lo scontro principale per la nostra regione nella sesta giornata di andata in Serie D. I rosso-blu primi in classifica e in coabitazione con la Recanatese devono confermare il momento super che stanno attraversando. Nelle Marche, oltre alla vittoria, hanno scoperto il talento purissimo di Icramellà, autore di un gol sensazionale. Ma dall'altra parte ci sarà un Pineto reduce dal successo tra le mura amiche col campo basso, che se da una parte ha inguaiato i lupi molisani, dall'altra potrebbe aver segnato la svolta del campionato dei biancazzurri di Massimo Epifani, che guida la truppa degli ex. Lui che ha guidato per quattro stagioni la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni a San Nicolò, vincendo il campionato di eccellenza a suon di record, poi tre campionati di Serie D con i play-off e grandi risultati prima dell'addio. Dalla parte opposta invece c'è Marco Pomante, in gol a Recanati, ma che nelle ultime stagioni è stato il baluardo della difesa pinetese e che adesso in coppia con Davide e Salvatori dovrà contenere l'attacco adriatico. A Notaresco non ci saranno gli infortunati della Querce e Alessandro, ma Epifani può contare su speranza. L'altra coca polista, la Recanatesi invece, si recherà al Fadini di Giulianova, la squadra di Federico del Grosso, soprattutto tra le mura amiche e avversario molto pericoloso. Dietro ha trovato solidità, anche quando, come ad Agnone mancato di Amutene, e davanti Suriano, Barlafante e Fioretti sanno come colpire. Anche qui, per il tecnico ospite sarà una gara particolare, con Federico Giampaolo che torna nella sua Giulianova. Dopo la sconfitta pesante contro il Matelica, che ha appena cambiato guida tecnica, con la Vitto per Battistini, il Chieti senza lo squalificato Fantauzzi deve ritrovare successo contro il Cattolica, che finora non ha mai vinto. Clamorose le difficoltà dei Romagnoli, che sono riusciti a strappare solo un punticino con l'Agnonese. I neroverdi hanno assimilato lo stop pesante, ma grandoni alle risorse per ripartire di slancio e guadagnare quei punti importanti per cominciare a costruire l'architettura della salvezza prima, di chissà sognare qualcos'altro. Rilanciata dalla vittoria interna con la Sangiustese e Lavastese, incontra un'altra compagine che finora non ha mai preso i tre punti, la Jesina. Le reti di Dos Santos, Cecchino ormai infallibile e Palumbo hanno steso i marchigiani, aspettando che anche Esposito prenda le misure in zona gol. Quello del Carotti per la squadra di Amelia è un match che può inserire gli aragonesi nella parte alta della graduatoria. Leoncelli che sono reduci invece dalla sconfitta ad Avezzano, coi marsicani veri protagonisti fuori dal campo della settimana. Prima l'arrivo di Serraiocco, poi le dimissioni in massa, in primis dell'ormai ex presidente Luciano D'Alessandro, per arrivare infine al ritorno di Gianni Paris. Settimana convulsa a dir poco, in panchina contro il Tolentino andrà ancora Vaccaro, in attesa di capire se la sua figura sarà confermata o, come ha dichiarato anche Paris, si potrà riaprire la strada che porta ad un ritorno di Meco Monaco esonerato due settimane fa. La situazione è in evoluzione, ma la classifica chiede al secondo match interno consecutivo un altro bottino di punti per allontanarsi dalla zona caldissima, in attesa che la situazione dirigenziale, più definita, possa permettere ai biancoverdi di poter trovare quella stabilità indispensabile da qui alla fine del campionato.